Salve da Acropalati, ancora una bella vassoiata, chiamiamola così, di melanzane biologiche cucinate con pomodori ciliegino, pomodori vari, anche quello patataro, quello san marzano, del peperoncino, peperoni, aglio, un po' di basilico, olio extravergine d'oliva, ecco qua, vengono preparati in padella, si fanno tante sovrapposizioni di questi ingredienti e poi viene messa anche un coperchio nei primi diciamo 15-20 minuti e poi si lasciano cuocere ancora prati 10 minuti, girandole più volte e si possono gustare queste bellissime melanzane veramente molto saporite e sicuramente salutare, sono anche leggermente piccante, un bicchiere di vino e anche oggi è fatta, ovviamente ne mangia una particina, volendo si possono anche mangiare tutte perché sono solamente ortaggi, adesso conviene mangiare cose solamente più di verdure, evitare innanzitutto le grigliate che abbiamo fatto, la carne, insomma cerchiamo poco poco di alleggerire un po' il sistema circolatorio, è importante non esagerare sempre tutti i giorni, questa roba sicuramente non potrà che non fare bene, ecco.